Sono un maestro di sci della scuola cicortina, quando non esercito pratico l'uscita d'alpinismo e passo l'inverno tra le vette di queste montagne. In estate l'unica cosa che mi dà l'adrenalina è scendere con la mia mountain bike. In realtà sia la mountain bike che l'uscita d'alpinismo si assomigliano moltissimo perché tutte e due ti permettono di arrivare in cima e avere una grandissima soddisfazione perché poi ti aspetta la discesa. Nella discesa sei talmente concentrato che sei un tutt'uno con la tua bicicletta perché non sai mai cosa ti aspetta. Devi essere concentrato per raggiungere il tuo limite e scendere a valle. Le mie montagne, la mia villier. Le mie montagne, la mia montagne, la mia montagne, la mia montagna... ... Grazie a tutti